In vista del ponte tra il 25 aprile e il 1 maggio, Acciaierie d'Italia ha comunicato di voler ridurre al minimo indispensabile la presenza dei lavoratori. Gestendo, scrivono, le relative assenze con l'utilizzo di ferie, permessi e altri istituti applicabili. Secondo i sindacati, la decisione di invitare i lavoratori a restare a casa farebbe seguito alla diminuzione della produzione, collegata a scarsità di materie prime e di liquidità. Lo stabilimento tarantino sarebbe in regime minimo di produzione, con il solo alto forno 3 attivo. Dopo che erano circolate voci, riferisce il segretario generale della Wilm di Taranto, Davide Sperti, in merito a possibili chiusure collettive degli impianti dal 25 aprile al 1 maggio, avevamo scritto all'azienda diffidandola dal decretare una fermata obbligatoria e dall'applicare una condotta che avrebbe significato una pericolosa continuità rispetto alla gestione precedente. In sostanza, Acciaierie d'Italia ha invitato i lavoratori a smaltire le ferie in modo da poter ridurre la produzione. Sulla base delle richieste prevenute sarà poi comunicato quali impianti saranno effettivamente soggetti a eventuale fermata. Dalla gestione commissariale, conclude Sperti, ci aspettiamo un cambio di passo nella direzione della tutela dei diritti.